Eccolo Nicola Rauti, doppietta, la prima in maglia bianca azzurra. Nicola, ieri nel pre-partita ci avevi detto Auteri mi sta provando molto da esterno e questo ruolo mi piace. Abbiamo capito che ti piaceva, ma non fino a questo punto. No, sì, sicuramente quello che ho detto anche prima è che devo migliorarmi perché comunque anche oggi ho fatto degli errori tipici dai pochi automatismi che ho in questo ruolo, ma sto cercando di migliorare a testa bassa e sono convinto che i miei margini di miglioramento in questo ruolo possono essere elevati. Hai costretto il tecnico del Montevarchi a un cambio dopo 25 minuti perché su quella corsia con il 2004 avversario Santi Amici era imp, diciamo non c'era duello. Mi ha fatto capire che stavo facendo bene, però sicuramente poi dopo l'obiettivo era quello di continuare e così penso di aver fatto e quindi niente, guardo il futuro e dico che comunque sono molto positivo. Anche se un gol in particolare lo hai fatto da classico attaccante centrale. Sì, no, certo. Quello spero che sia una cosa che devo avere nel DNA e che mi rimarrà per sempre perché devo alzare le mie statistiche se voglio portare rispetto alle mie grosse ambizioni che ho. E' questa la nuova identità del reparto offensivo del Pescara con due attaccanti centrali di cui uno tu adattato ad esterno? Io cerco di farmi trovare pronto. Secondo me abbiamo veramente un parco attaccante importante quindi chiunque è preso e messo in causa può dire sempre la sua e io quello che devo fare è farmi trovare pronto. Questo Pescara ti è piaciuto oggi? Sì, diciamo che ci sono ampi margini di miglioramento secondo me perché finalmente abbiamo ritrovato la vena realizzativa importante che forse nell'andata non c'era mai riuscito di fare quattro gol comunque in questa maniera qui però dobbiamo stare attenti perché poi abbiamo concesso però è un gioco offensivo il nostro e quindi questo può capitare. Chiudiamo così. Ieri in conferenza stampa Auteri aveva detto Sì, firmerei per il terzo posto. Oggi la Viterbese, prossimo avversario del Pescara ha imposto lo stop 0-0 al Cesena avete resicchiato due punti sul terzo posto. Questo è positivo e secondo me quello che bisogna fare è guardare di partita in partita perché quello che può succedere oggi magari domani sarà tutto diverso quindi l'obiettivo è quello di continuare a macinare punti e poi dopo vedremo.